Una delle convinzioni più radicate e anche errate riguardo all'utilizzo della pillola è la famosa pausa. Capita spessissimo che mentre una donna fa una terapia anche lunga con la pillola contraccettiva decida di fare anche spontaneamente una pausa di due o tre mesi per lasciare riprendere le ovaie, per disintossicare il corpo dalla pillola o semplicemente perché le sembra che sia la cosa giusta. Ebbene, abbiamo definitivamente capito che la pausa in corso della pillola non va bene e non va bene per due motivi. Il primo perché espone al rischio di gravidanze indesiderate. Se noi siamo abituati a prendere la pillola tutti i giorni e ad avere una sessualità libera con il proprio partner, ecco che nel momento in cui non abbiamo più la copertura contraccettiva della pillola abbiamo un rischio di gravidanze indesiderate. Ma vi è un altro problema legato alla pausa della pillola. Noi sappiamo che la pillola contraccettiva aumenta, anche se di pochissimo, il rischio di trombosi. Siamo intorno al 5-7 casi su 10.000. Questo rischio è massimo nei primi tre mesi di utilizzo della pillola e poi va a ridursi. Ecco, se noi sospendiamo la pillola e la iniziamo nuovamente, tutte le volte che la iniziamo ripartiamo da quei tre mesi di rischio aumentato e quindi è sicuramente, per quanto si tratta di numeri estremamente bassi, ma è sicuramente un rischio in più che non ha senso correre. Quindi il messaggio è facciamo la pillola contraccettiva finché ne abbiamo bisogno. La sospendiamo se decidiamo di avere una gravidanza, se cambiamo scelta contraccettiva, ma non si sospende per due o tre mesi non è necessario e può essere anche dannoso.